Ciao ragazzi, oggi vi parlo di un piccolo ausilio didattico, semplicissimo da realizzare, un bastone incastrato con due pirilli per imparare, o meglio, per aiutare i nostri allievi a imparare l'aula di rovescio. Basteranno pochissimi input, ovvero l'infugnatura, la continental, la punta della racchetta leggermente dietro il bastone, in modo da inclinare il piatto corde, la mano leggermente davanti, smostare il peso dalla gamba posteriore a quell'anteriore e provo a muovere i miei in avanti verso la palla, ma nella palla arriva accorciando al massimo la preparazione, che ovviamente l'allievo non potrà effettuare perché c'è il bastone che lo limita nello spostamento del braccio, nella preparazione. E adesso vediamo se funziona. Buono, vai lieto, tocca la mano, vai, mira la racchetta, brava, e tocca, via, eccola, ancora attra a due, scena, via, e tocca, via, ok, brava, vai, si, fila, pezza e dietro, vai, si, a contra, brava, vai, hop, si, bravo, vai, bravo, vai, va di senza qui. Perfetto, va a muovere la mano, tocca le guide perfetto lì 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 le scande lì 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 lì